Siamo in Via Calastro, nella zona delle Giostrine. I residenti da tempo lamentano assembramenti da parte dei giovani, soprattutto nel fine settimana e nelle tarde ore della sera. Questi assemblamenti provocano dei disagi enormi, in quanto vengono a bere, a fare caos. Per quanto riguarda il bere, bottiglie rotte a terra, rompono le bottiglie, stanno senza mascherina. Sono tanti, una volta erano all'incirca un 200. Noi chiamiamo forse dell'ordine, ma non riusciamo a contenere questa cosa. Sarebbe bene che il comune ci aiutasse, almeno in questo. Perché noi facciamo tanto, ci stiamo a casa, ci mettiamo le mascherine. Ho anche io dei figli che ho tenuto in casa, di 26 anni, li ho tenuti in casa, non li ho fatti scendere per nessun motivo. E qui si sta degradando sempre di più. Stamattina sembrava che fossero venuti a togliere dell'erba, qui che c'è alta. Però in realtà, niente, hanno fatto come una piccola cosettina, ma l'erba c'è ancora. C'è ancora tanto sporco. Ci sono ancora i bambini che vengono a giocare e non si viene a fare una disinfettazione, qualcosa, per fare in modo che questi bambini salgono su queste giostre in sicurezza. Perché poi la sera queste giostre vengono usate dai ragazzi, vengono rotte dai ragazzi. Ci salgono, ci fanno gli scivoli, come se fossero dei bambini piccoli. Mantengono un caosso fino alle 2-3 di notte. Abbiamo ripetutamente chiamato le forze dell'ordine, tutti i tipi di forze dell'ordine, vigili urbani, 112 e tutto il resto avvengono. I ragazzi scappano perché qui hanno la via di fuga, perché nel momento in cui vedono arrivare le volanti, da qui hanno la via di fuga camminando verso il porto. E quindi riescono a, non dico a scappare, però ad essere indifferenti, camminare come se le cose non fossero loro. Dopo 10 minuti, esatti, ritornano. E si ritorna all'assemblamento. Festeggiano compleanni, tutte queste cose, rompendo birre, bottiglie di champagne. Non vi dico se per caso si ubriacano, fino a che ora dobbiamo sopportarli. Vorremmo da parte del comune soltanto un poco di, non un poco, tanto. Specialmente in questi orari che sono quelli che l'assemblamento è più forte, dopo le otto e mezza così iniziano, ma andasse più controlli. Perché senza mascherina si assemblano serate, tipo il sabato, che il sabato si sa che i ragazzi scendono, arrivano pure a essere quasi 200 ragazzi. Ma stiamo parlando dei giovani, giovanissimi, e non sappiamo più come gestirli. Possiamo chiamare 100.000 volte le forze dell'ordine, ma quelli vengono un attimo, ve ne dovete andare, state in assemblamento, loro fanno finta che se ne vanno e poi rinizia di nuovo tutto da capo. Noi solo questo chiediamo al comune e al sindaco, che ci aiuti, perché noi in un certo senso siamo quasi abbandonati a noi stessi. Sono venuti una volta a chiudere le giostrine, ci sono ancora i residui delle reti che misero intorno alle giostrine. Loro puntualmente le tirarono giù la sera e si misero a fare le loro cose, i loro giochi. Siamo un po' esasperati e vorremmo che da parte del comune o di chi è di competenza venisse a tenere un po' più di controllo. Noi ci viviamo, siamo contenti che ci sia una cosa bella per i bambini, per questi ragazzi che vengono a fare ginnastica, a correre, a usufruire delle cose che il comune ha messo a disposizione, panche, braccioli e tutto il resto. Però purtroppo c'è questo problema dell'assemblamento. Birre, c'è roba da bere, però non è che buttano oppure l'appoggiano da una parte, lo rompono. C'è il gioco, loro puoi rompere. Qua ci giocano i bambini. Se un bambino di questo cade, come sono caduta io e mi hanno dato all'incirca 40 punti alla gamba, cade un bambino, ci va con la faccia a terra. Ma che combiniamo? Con chi me la devo prendere? Ma non fa niente. Manca non cadere un bambino in coppa, una cosa tagliente. Che ci va a finire con una faccia, lo roviniamo a vita. Più controlli, più controlli.